in connection you are now live ok fatemi sistemare tutto ragazzi come state ecco è crollato come state ragazzi tutto a posto aspettate qua che sto facendo un macello eccolo matteo mazza velocissimo hai cominciato la live perché a me non carica all'inizio adesso matteo perché non state guadagnando con non state facendo perché non state facendo vendite con il business di dropshipping e soprattutto perché non riuscite a capire perché non state facendo vendite grande vincenzo grandissimi spieghiamo ragazzi perché non riuscite a fare vendite e soprattutto perché cioè cosa non riuscite a capire c'è il processo tutto lo step by step dalla la z perché non riuscite a fare vendite e soprattutto perché non riuscite a capire come fare vendite e non riuscite a capire perché non fate vendite grandi ragazzi grandissimi alessandro vincenzo grandi anthony eccovi tutti quanti belli come il sole ok qua intanto qua la la borna è scritta russa che non so che cos'è magari c'è qualcosa di strano mi sento male se mi sento male sapete che è roba russa strana giuseppe grande ciao erica ciao grandissimi cosa ne pensi a clienti convolti quando si usa adesso lo spieghiamo di stefano fammi finire sto concetto ragazzi allora un un commento negativo ovviamente di un hater però c'è la ragione che non finisco mai discorsi adesso mi impegnerò a parlare almeno dieci minuti fisso di un discorso così siete intanto vi do delle informazioni utili e finiamo un discorso completo e poi fate tutte le domande che volete almeno dieci minuti quindi ok ciao ragazzi perché non riuscite ad ottenere vendite ok con il vostro sito dropshipping e soprattutto perché non riuscite a capire in che cosa c'è di sbagliato cosa c'è di sbagliato infatti ci stanno molte persone che mi dicono stefano ma perché non ottengo vendite ok questa domanda la fanno in tantissimi ok su instagram facebook youtube dicono ho avuto mille visite ma non ho avuto non ho avuto vendite ok ma perché tutto questo e qui c'è proprio il primo problema perché se non riesce a capire cioè il primo problema è proprio che non riesce a capire perché e infatti e questo è proprio il problema principale dei beginner ok infatti ciao ragazzi ciao a tutti toni ti faccio il bonifico per comprare il corso ho subito la disponibilità dei video sì toni basta che mi mandi la foto del bonifico e ti faccio accedere ti metto già come se avessi avuto accesso quindi fammi il bonifico tranquillamente anzi c'è un altro ragazzo che mi ha fatto il bonifico che mi ha detto che mi arrivava fra tre quattro giorni scrivi adesso mi ricordo il nome però scrivimi su instagram o su whatsapp o quello che è e ti faccio accedere direttamente anche senza aspettare tre giorni cioè tranquillo grande luca come acquistare il corso montana business online punto com montana dropship in formula bruno il codice lancio ok fatemi finire il discorso ragazzi perché questo è importante lo dovete capire ok perché non ci non comprendete come è possibile che su mille persone un milione di persone non è riuscito a vendere allora voi dovete immaginarvi dagli apps fino alla vendita come un funnel ok avete presente il funnel un funnel di vendita ok un imbuto in italiano però fanno da ragazzi lo sappiamo tutti che cos'è un funnel di vendita ok abbiamo alla cima del nostro funnel in cima abbiamo tutte le persone ok che verranno targetizzate dai nostri ads oppure dai star influencer pinterest italk snapchat eccetera eccetera ora tutte quelle persone dipende dal prodotto che vendete sono il vostro pubblico target ok di quelle persone ok per esempio su facebook spm il costo per mille visualizzazioni è di più o meno in italia è di 5 euro in america tipo di 20 ok quindi quattro volte superiore perché in america ovviamente il mercato target numero 1 al mondo ragazzi quindi là è tipo la serie a cioè il mercato più competitivo stanno tutti là perché ovviamente là come gli avvoltoi e cercano di prendersi un pezzettino della della carne ok quindi in italia abbiamo questo cpm a 5 euro per esempio abbiamo mille persone che visualizzano le nostre inserzioni però non vuol dire che mille persone arrivano sul nostro sito come facciamo a sapere quante persone visitano il nostro sito su mille e là entra in gioco il primo step del nostro bellissimo funnel ok che è ovvero il ctr ok ctr senti che pronuncia il ctr ovvero click to wait che significa essenzialmente quante persone su 100 vedono l'ad e cliccano e vanno sul sito questo è proprio semplice semplice ora per quanto ogni categoria ogni tipologia di business ha una ha un click to wait essenzialmente diverso ok in base al mercato in base al targeting in base a quello che state vendendo ovviamente cambia facciamo esempio dell'e commerce per esempio ok nicchia fitness simone ciao stefano corso comprato daie daie simone grandissimo qualsiasi problema ragazzi qualsiasi problema o mi scrivete nel gruppo o email comunque il sito funziona tutto a posto abbiamo controllato è tutto a posto va bene adesso ragazzi fatemi finire questo concetto fondamentale ok quindi per esempio nicchia fitness possiamo se noi targherizziamo bene possiamo arrivare ad un tasso di click to wait leo che figata questa traduzione istantanea mi rendo conto di quanti ok dici ho acquistato il corso ieri oggi mi metto a studiarti ok ok leo ai ragazzi purtroppo vedete io sono il classico esempio di una persona che non è capace a fare nulla ok non sono capace a parlare non sono capace a studiare ma non capace a giocare al pallone non è che dici a stefano perché dici questo sei bravo a fare e commerce in verità non è che sono bravo cioè ho studiato mi sono fatto il mazzo e alla fine sono riuscito perché principalmente non ho mollato però anche per esempio youtube io non sono una persona estroversa ma adesso ritorno al discorso ragazzi lo so che stop i discorsi però permettetemi sta parentesi io non sono una persona estroversa anzi cioè mi ritrovo in tutta questa situazione però qual è la differenza tra me e tutti gli altri che nonostante le critiche nonostante io sappia che non sono una cima in qualsiasi cosa io non mollo continuo capisco dove sto sbagliando e cerco di migliorarmi ed è così che si scala la vetta di qualsiasi cosa del business del dropshipping e commerce di video personal branding agency qualsiasi cosa finisci il discorso sulle vendite c'ha ragione alessio vorrei che ci fosse qualcuno adesso chiamo qui l'amica mia sta cucinando la cena russa ragazzi speriamo bene se mi sento male faccio una storia e sapete che mi è successo ciao alessandro quindi quando mi accettare gruppo di animo ti accettiamo tranquillo non è che ti lasciamo fuori ora click rate quindi fitness organizziamo gente fitness prodotto fitness come sappiamo se l'ad sta funzionando ok questo è importante ragazzi perché molti dicono ma come ho fatto l'ad nessuno mi vede il sito ho avuto interazioni like commenti che bello no non è bello per niente ok voi fate gli ads specialmente dropshipping ma anche private label e commerce tutti i brand tocca fare i soldi ok voi fate gli ads unicamente per fare i soldi engagement brand awareness tutte queste belle cose in verità non ci interessano non ci interessa fare il cash il più possibile con il dropshipping ovviamente e quindi noi dobbiamo fare il cash attraverso le ads ma prima di tutto con le ads noi attiriamo il pubblico potenziale ovviamente il target che potenzialmente compra da noi e quello è il primo step alle facebook ads quindi mettiamo esempio nicchia fitness prodotto per la palestra che adesso va di moda e in trend eccetera eccetera ok abbiamo un click rate che può andare sotto l'un per cento vuol dire che l'ad non va tanto bene tra l'uno e il due per cento siamo siamo nella media e sopra due tre per cento decisamente buono sopra il tre a tra due e il tre è decisamente buono sopra il tre al top quindi voi dovete prima di tutto capire se l'ad sta funzionando e questo è il primo step ok ovviamente nel programma avanzato ragazzi vi spiego tutto vi spiego tutto step by step tutte queste cose con il video con i file pdf eccetera eccetera ciao stefano a tutti i gladiatori gladiatori ciao ciao a tutti ragazzi non ho detto gladiatori all'inizio comunque siete tutti gladiatori noi siamo tutti lottiamo tutti verso la libertà ok anche se non è contro la vita diciamo nel senso come nel film la libertà del gladiatore però la libertà finanziaria quindi siamo gladiatori tutti quanti quindi ritornando al discorso degli ads abbiamo questo benedetto ads estempio 2 per cento di click rate significa che due persone su cento vanno a sto benedetto nostro sito ok sto benedetto sito shopify il nostro negozio buona la birra russa no non è la birra è la born russa vedi con scritte russe quindi se mi sento male sapete perché tra l'altro c'era non mi ricordo ecco è morto instagram tra l'altro c'era uno mi ricordo chi che diceva che non stava in russia era tutto fake vabbè ragazzi la gente sta affolgorata comunque gladiatori e gladiatrici c'era generica però gladiatrici cioè va bene però non è che suona benissimo quindi 2 per cento vuol dire due persone su cento vanno sul sito se il cpm 1000 vuol dire che 20 persone con 5 euro facciamo arrivare 20 persone sul nostro sito e fin qua ci siamo va bene quindi 5 euro 20 persone sul sito e abbiamo abbiamo il target ok ora queste 20 persone sul sito cosa succede quello è il nostro obiettivo abbiamo abbiamo capito che facciamo facciamo arrivare queste 20 persone con 5 euro questo ovviamente è generale però più o meno farvi capire perché molte persone magari non capiscono ma con 5 euro quanti risultati posso ottenere questo è più o meno il discorso ok e l'obiettivo vostro è far salire ogni volta questo click to wait tramite il target migliore tramite le creatives migliori tramite il video migliore tramite le foto migliori eccetera eccetera e aumentare più possibile questo questo tasso di click to rate perché essenzialmente è quello che ci porta la gente ci porta gente entro al sito se l'anno no facciamo la pubblicità efficiente come insegno io su montana business online puntocom montano chip in formula il corso programma avanzato di drop shipping lì vi spiego esattamente come dovete massimizzare il voto le vostre inserzioni ok di facebook per massimizzare appunto le vostre visite il vostro storia e quello è primo step quindi catturare l'attenzione delle persone e quindi farle arrivare sul nostro sito web ora una volta arrivati sul vostro sito bene quello è primo step ok targetizziamo primo step fa arrivare le persone sul nostro sito web ok e là l'abbiamo capito il primo livello super mario ok primo livello super mario raggiunto ora c'è il secondo livello qual è il secondo livello se fate se state facendo un monoprodotto semplicemente fate li mandate sulla pagina prodotto ok se state facendo una nicchia potreste mandarli anche sulla collezione però deve essere comunque dei prodotti vincenti perché così che devono catturare attenzione dipende ragazzi di amena quello che state vendendo tanto qua ci sono i capelli quindi aspettate qua metto a fuoco ecco per esempio adesso ieri sono entrati 300 sul sito e sono una vendita cosa dovrei fare intanto prima di tutto ricontrolla adesso lo spiego quindi il secondo livello cosa cosa succede alessio quando la gente arriva su sto benedetto sito nostro ok lì succede che arrivano sulla pagina prodotto la pagina prodotto che cos'è non è altro che un fan di vendita quindi all'interno di questo fan di vendita noi dobbiamo massimizzare ogni singolo aspetto nostro fan ok non fate come quelle persone che anzi adesso fabrizio è diventato un gradatore di montana dropship in formula ma durante il video all'interno del quale feci le recensioni sui 3 dropship in stores non so se ve lo ricordate comunque trovate sul mio canale puoi salvare questa live stefano sta tutto gratis su youtube ragazzi tranquilli non vi preoccupate grazie steve fabrizio ti ricordi tremendo è calcola durante quel video si ero luna rien durante quel video mi stava quasi nervosendo perché detto ma te pare cioè proprio alla romana l'ho detto si lo so del primo store ragazzi lo so però per questo sicuramente non ti sorprendevi delle non vendite che ottenevi ma c'era un altro peggio di te nel video quindi ragazzi andatevi a vedere quello è un video interessante faccio le recensioni di 3 store buonasera eduardo come va tutto bene i video su youtube sono i stessi gratuiti che sono sul sito alcuni si praticamente si però alcuni sono diversi comunque su montano dropship informa sono nuovi ho inserito alcuni che dovete per forza in montano dropship informa anche se sono gratis in futuro deciderò se toglierli oppure no perché veramente sono video troppo avanzati cioè ragazzi c'è stato il video dei prodotti come trovare il prodotto vincente vincente vi do addirittura il codice pixel io voglio sapere dove lo trovate un altro che vi dà il codice pixel per falsificare l'acquisto cioè questa è proprio la tecnica super black strana magheggio per far modo che facebook vi faccia arrivare automaticamente i prodotti vincenti cioè chi ve lo dice gratis però vabbè continuiamo a dare la roba gratis e non venire non venire proprio manco ringraziati vabbè no non è vero ragazzi molti mi ringraziano e dov'è questa fabrizio ecco il problema un problema vero ragazzi sai qual è che a me non è il problema non è dalla roba gratis informazioni gratis il problema è che come come è successo il video facebook si trovi tutto la fabrizio devi fare quello che trovi nella lista michael sto facendo store guardando i tuoi video gratis grazie boss prego però non ti bastano devi anche acquistare montato c'è più formula che è complementare ai video gratis quindi e quindi ragazzi il problema delle cose gratis dare per ricevere grazie stefano lo so tutto ma intanto ma io lo faccio inizialmente se voi vedete i video io ho messo i video così all'inizio cioè giusto per mettere in rete per comunque far conoscere le persone è in verità questo lo scopo far conoscere le persone questo mondo che a me ha cambiato la vita personalmente poi se chiunque fosse interessato c'è il programma avanzato però non è che siete costretti fate come mi pare se volete prendere dropshipping in maniera seria sicuramente investite in informazione avanzata dove vi garantiamo il supporto diretto dei nostri coach e fate le cose seriamente e provate a cambiare la vostra vita anzi ci dovete riuscire cioè quello è il mio obiettivo però ragazzi state tranquilli su grande tutor grandissimo sei davvero una persona di cuore sempre disponibile certo ragazzi ma ma alla fine cioè se non ci aiutiamo noi siamo persone cioè non trattiamoci da persone ma perché cioè non capisco lo so e lo acquisto grande michael calcolate che però il primo dato che sto caricando un sacco di lezioni nuove oggi ricarico altre lezioni sto caricando i file il primo maggio finisce la promozione del codice promozione lancio quindi scade il codice quindi intanto ragazzi continuiamo il discorso tranquilli solo che devo dire anche queste cosine ora che è finito il discorso cosa pensa acquirenti convolti quando si usa allora acquirenti convolti ragazzi essenzialmente significa che loro voi andate a targhezzare principalmente chi clicca frequentemente chi sta cliccando frequentemente durante un periodo breve e Manuel fatemi domande dopo tranquilli cioè ci abbiamo tempo dai una mezz'oretta finché non finisce di cucinare ci sto quindi acquirenti convolti funziona molto bene quando avete un pubblico ampio lo volete narrow come si dice in italiano non mi ricordo perché io ho tutte le impostazioni in inglese ogni volta comunque quando tu targetizi poi puoi narrow non mi viene quando puoi ritarghezzare ragazzi aiutatemi non mi ricordo come si dice in italiano quando tu targetizi targetizi prima sopra affinare esatto Giuseppe affinare io ho tutte le impostazioni no che stretto ok tu targetizi prima per esempio ok ritornando alla nicchia fitness targetizi gym shark no canalizzare ragazzi quando voi andate a targhezzare targhezzare prima un interesse restringere bravo restringi il pubblico e restringi il pubblico con acquirenti coinvolti questa è un'altra tecnica ragazzi che è molto importante perché andate a targhezzare le persone che essenzialmente comprano più spesso che cliccano più spesso comunque sono più interessate a questo tipo di di marketing sono più attratte dai dei prodotti comprano più spesso in teoria scusa se spammo mi salti sempre salvatore tranquillo piano piano facciamo tutti quanti restringere daniele c'è sta pure mio fratello grande daniele tra l'altro lo faremo entrare nel canale come giurista perché lui si sta laureando in giurisprudenza ha detto vuole iniziare a fare i video sui diritti poi qualsiasi cosa le tasse cose chiedete a lui e qualsiasi problema voi abbiate a livello legale è colpa sua quindi io non c'entro niente mi dissocio adesso rispondo a tutti ragazzi fatemi finire sto discorso per favore sennò poi mi dicono che non finisco discorso e ci hanno ragione ora narrow no non consiglio sempre di farlo dipende dal prodotto dipende dal targeting dipende dalla grandezza del pubblico ok quando è molto grande potete fare in arrow ok daniele sei l'unico non può dissociarsi quindi ritorniamo al nostro discorso abbiamo taggerizzato fitness 2% click to rate arriva sulla nostra pagina prodotto per esempio gli elastici ok adesso sono in voga sono in voga questi benetti elastici cosa succede sul nostro sito è la che le persone che voi da ragazzi dovete capire cosa succede step by step cosa succede arrivate su arrivano su sto sito cosa succede aggiungono al carrello o non aggiungono al carrello sono due le vie cioè ragazzi sono solo due quanto costa il nuovo corso sta a 333 con lo sconto 203 codice promozionale che scade fra tre giorni o quattro gianantonio quindi su montanabissessionale.com montana dropship informa quindi ci sono due vie una prova una leva destra sinistra il russo o aggiungono al carrello o non aggiungono al carrello se aggiungono al carrello la percentuale almeno cioè comunque ragazzi dipende dipende da antifattori dipende dal prodotto se ovviamente il prodotto c'è un prezzo più alto ovviamente la gente la gente aggiungerà meno al carrello in base comunque alla qualità percezione cioè immaginare per esempio una scarpa da 500 euro anche se avrete mille visite voi vendete una scarpa da 1000 euro da 500 euro se avete anche mille visite sicuramente la maggior parte neanche aggiungerà al carrello perché 500 euro per le scarpe non ce le spende ok in generale perché comunque è un prodotto veramente per pochi però se togli uno sono sei giorni Michael sì però tanto ragazzi comunque ci saranno gli aggiornamenti garantiti a vita accesso a vita quindi prendetelo adesso e state tranquilli perché dovete aspettare l'ultimo senza farsi trucchetti dei scarsi di marketing ecco Tony esattamente per quello che non comprano è quello è un altro step del funnel esatto per esempio se tu facci parte del corso del programma avanzato questo problema Tony non ce l'avevi e capito esattamente perché non stai vendendo ho avuto moltissimi aggiunti al carrello in Italia ho paura che molti siano frenati dalla mancanza di pepolla senso certo ogni singolo step voi dovete vedere esattamente cosa succede immaginatevi quindi il primo step è facebook traffico il secondo step è aggiunta al carrello il terzo step è inizia il check out che in italiano è ragazzi aiutatemi che ormai non mi ricordo più l'italiano cioè non è che l'avessi mai conosciuto no cassa l'evento inizio di acquisto ecco inizio di acquisto eccoci grande e company fit grandissimo comandiamo con le vendite all'altro ho visto visto che mi hai seguito anzi non parliamo altrimenti qua partono le cose va bene quindi all'inizio del check out quello è il terzo livello del nostro gioco del funnel ok immaginate primo livello secondo livello terzo livello quarto livello ovviamente l'acquisto ok primo livello arriva alla pagina prodotto aggiungono al carrello sì no perché se non aggiungono al carrello significa che c'è problema la pagina prodotto e voi dovete dovete essenzialmente massimizzare la pagina prodotto e io vi spiego esattamente come in montagna drop ship in formula ovviamente ok e Paypal lo consigli? Luca? sì come abbiamo detto prima Paypal ragazzi aumenta il tasso di conversione perché la gente si fida di più quindi voi più metodi di pagamento utilizzate e meglio è ovviamente quindi se voi utilizzate carta di credito Paypal cash on delivery che in italiano è pagamento alla consegna e in Italia anche lo sai quale va? vabbè bonifico no per e-commerce vabbè se ci potete aggiungere anche bonifico anzi però sicuramente tantissimo è utilizzato soprattutto vabbè Paypal anche perché è famoso in Italia e cash on delivery ok cash on delivery perché? perché tante persone in Italia ragazzi comunque immaginatevi che in base al prodotto che vendete però se vendete un prodotto che va dai 30 ai 50 anni oppure 60 immaginatevi che dai 40 ai 60 magari stanno ancora eh ma compra online ma non si sa se arriva queste cose qua ok che in teoria potrebbero averci ragione però siamo nel 2020 ragazzi cioè se non ti fidi perché chiunque la possa Pay quindi essenzialmente anche carta maestro per Italia Simone One però se se c'hai Stripe o Shopify Payments tutte le carte sono comprese quindi non è una questione una poste Pay quella gialla non Evolution quella gialla prepagata o quella chiunque può comprare quindi in verità chiunque pure mia nonna c'ha la poste Pay mia nonna potrebbe comprare tranquillamente su Shopify quindi di che stiamo parlando? è un problema di fiducia e è un problema di fiducia con il cash on delivery va proprio da nulla non ci hanno scuse quando gli arriva il prodotto loro devono cacciare i soldi va bene? quindi devono pagare però il problema è che in molti casi come è successo per i miei clienti con il brand vero con il product label che arriva e quelli dicono no non lo voglio più oppure non si fanno trovare e là però l'aspedizione te la paghi lo stesso perché con il dropshipping non si può fare non si può fare ok? perché ovviamente per fare cash on delivery tu devi comprare il prodotto prima Tutor i video del corso rimarranno per sempre accessibili sul tuo sito è certo Tutor che facciamo per sempre e per sempre finché cioè anche se mi sento male mi arrestano qua in Russia cioè comunque il sito è online va bene quindi Luca per la parte legale consiglio di utilizzare i modelli proposti a Shopify si tanto comunque nessuno legge la parte legale opzione per spedizionieri per private label cioè quelle tutte le più famose Bartolini se in Italia per esempio Bartolini ah ragazzi mi fate un favore voi che stai guardando il video mettete mi piace sotto il video non fate i paghi mettete mi piace un attimo dai non vi costa niente lo so bravi bravi rispondo a tutto quello che volete sto qua apposta bravi bravi mettete mi piace ho dei parenti a Mosca quindi ti do una mano eh ho capito i parenti a me servono serve un commissario un capo di polizia della polizia di Mosca quello mi serve non mi serve un parente cioè mi serve uno potente ok quindi vendo gli elastici che mi hai detto mi hanno riferito che il prodotto è saturo cosa consigli fare Alessio allora voi dovete calcolare che state già in ritardo per tutti i prodotti di questo periodo cioè che vi mettete a vendere mascherine che anche Louis Vuitton ha fatto le mascherine cioè ragazzi i trend dovete sfruttare i trend assolutamente però comunque ci stanno una marea di winning products che magari non vendono come prima ma venderanno comunque piano piano d'estate grande creatore mi rispondi sempre se è number one è certo Luca però Luca le domande poi me le fai su gruppo facebook non privatamente cioè me puoi scrivere le cose sì tranquillo però in generale le domande fatemi sempre su gruppo facebook dove ho i coach che rispondono uno free era il primo stato adesso ho già capito che non era niente di che vabbè è stato a parlare fra di voi bravo se vuoi scrivi a Putin non posso nominare Putin che qua mi ascoltano cioè qua Putin ascolta più di google facebook messi insieme e quindi non mi fa più uscire la Russia ciao ho già messo like come pensi che andranno i negozi fisici dopo questa situazione aurora ragazzi ma allora per quanto mi riguarda quanto vi divertite con le chat no ma lo sapete ragazzi che fare live è proprio divertente è proprio bello grande Davide finalmente ce l'ha fatta e ce l'ha fatta finalmente a copparare è una grande grande e c'era problemi con questa post per evolution ragazzi la post per evolution è una carta per pischelli voi dovete utilizzare le carte ve lo dico sempre più possibile senza limiti e più possibile internazionali perché perché in Italia la mentalità non solo delle persone in generale e del go no vabbè in generale delle persone diciamo in generale ovviamente ragazzi è ristretta arretrata lenta e tutto quanto ma anche il sistema finanziario fiscale e tutto quanto lo sappiamo ragazzi che in Italia è tutto così quindi le carte non sono un'eccezione le banche non sono un'eccezione hanno i limiti cioè anche anche le banche del anche le banche bisogna scappare fai soldi e te ne vai dove pare Edoardo prima fa lì questi soldi esatto Michael N26 Revolut comunque le carte straniere non hanno problemi cioè Revolut per esempio non è una banca però Revolut cioè mi ricordo una volta ho messo ho caricato 10k per i facebook ads mi servivano e e niente dicono ma dove vengono questi soldi boom bloccato tutto per una settimana Revolut ha proprio congelato e c'erano questi 10k congelati stavo là e manco rispondevano quindi Revolut però adesso mi sa che sono migliorati N26 già è un po' più professionale ed è una banca quindi N26 N26 va bene assolutamente business è anche gratis grande Davide grandissimo ce l'hai fatta allora che prodotti consigli adesso che sta finendo questa situazione Francesco allora quello che dovete fare attraverso il mio metodo il mio metodo proprio trasparente che ti insegna step by step come non solo copiare ma come spiare anche la competizione e essenzialmente iniziare a fare qualcosa che già funziona perché non è che vi mettete a testare a caso prima vedere che funziona e poi testate va bene quindi avete molte più possibilità di successo va bene aspettate qua ho visto una bella domandina per le espedizioni prevedebo c'ha ragione Emanuele allora Bartolini e poi dall'altro devo finire il discorso ragazzi non è colpa mia se non finischi i discorsi è anche colpa vostra me fate tutte domande giuste però che diamine comunque Bartolini DHL il top DHL è più costoso ovviamente Bartolini SDA poste italiane però ragazzi cioè vi ho andato a vedere tutti che gusto è la borna è tipo è scritto il russo vedete il russo quindi non lo so che gusto è io poi sono allergico pure GSL sono pure allergico tipo ai peli dei gatto al kiwi alla nocciola vuol dire questi cavoli però se mi sento male magari qua dentro c'è una cosa strana sapete perché come posso fare nel senso devo contattarli per avere un prezzo visto con loro Manuel certo di contattare c'è sta Google cerchi DHL prezzi cash on delivery prezzi pagamento alla consegna prezzi spedizioni c'è sta scritto tutto abbiamo Google che ci dice tutto quanto Google ci aiuta ovviamente a cercare i nostri i nostri siti se non si trovano prodotti sulle varie piattaforme come Berlo etch eccetera rimane solo da contattare un fornitore privato vero dropshipping agent come vi spiego nei video gratis che la maggior parte delle persone non vedono ragazzi comunque io sinceramente ripeto continuando sto discorso concludendo sta storia del gratis dei video gratis i corsi gratis eccetera ragazzi rimananno gratis per sempre però non vi volete almeno vedere cioè sta quel video su facebook cazzo si bio un'ora e mezza cioè che quello vabbè lasciamo stava i video gratis me li sono scaricati tutti hai fatto bene Francesco hai paura che li levo e fai bene fai aspetta aspettate ora risponde bravo Fabrizio quanto costa il corso 333 con il codice sconto lancio che dura per altri 3-4 giorni o fino al primo 203 quindi 130 euro di sconto se usi il codice il codice lancio quindi in questi giorni sta aggiungendo video perché non li avevi messo prima perché li sto registrando adesso cioè li ho registrati in questi giorni ho il video mega che li sta montando e quindi li carico quindi però tanta voglia te so lezioni lezioni sto per comprare anche il corso superiore bravo Francesco e cosa c'è dentro allora ragazzi intanto se andate su montanabusinessonline.com i template appagamento li consigli cosa ne pensi e te li toglie nel corso i template gratis esatto questa è una cosa che metto i template gratis e le mail che dovete mandare gli influencer per esempio fondamentali la lista di tutte le app che dovete utilizzare step by step e cosa dovete fare la checklist del sito shopify perfetto che converte se lo canna rispondi solo a chi ha comprato il corso ma non è vero ma che dici rispondo a tutti quanti cioè non dite queste cose rispondo a tutti solo che sono 2000 cioè grande davide quindi oltre ai template li trovi tutti nel corso ragazzi per chi fa parte già di montanabusinessonline dropshipping formula ci avete il link di google drive dentro ogni lezione dentro le lezioni ci avete proprio il link dovete cliccare e potete visualizzare sia la tabella per calcolare i prezzi di influencer e non pagarli a caso ovviamente dovete sapere esattamente quanto state pagando ogni singolo influencer in base all'engagement in base ai followers in base ai like in base alle visualizzazioni delle storie i temi dello store eh vi consiglio anche quelli dropshipping agent per testare il prodotto per ordinare lo stock eh dipende se te lo fa che ne pensi di pagare un esperto per iniziare eh Bruno dipende cioè dipende perché gli esperti che esperti di che cioè io ho speso centinaia di migliaia di euro in facebook io sono esperto gli altri quanto hanno speso un supplier dai ti rispondo così dici che se no non ti rispondono un supplier mi ha detto di pagare un pacco con Western Union secondo te scam io ho mai sentito Western Union a un supplier che se io ho bonifici eh per esempio il dropshipping agent che vi passo nel corso nel programma avanzato vi passo proprio il mio il mio dropshipping agent il nome col contatto skype lo potete trovare all'interno del programma eh quello per esempio si prende Pioneer o bonifico Paypal Western Union vabbè in teoria Western Union si cioè bonifico pure la stessa cosa quando vi fa il bonifico non è che poi eh poi chiede i soldi indietro eh cioè quello discorso quindi comunque deve essere un affidabile quello che vi giro io è affidabile ma ce ne ho anche altri vi spiego anche come trovarli come contattare come contattare i fornitori come scegliere i migliori e come trovarli quello che lo spiego ovviamente quando è stato lanciato il tuo corso eh tre giorni fa Gelsomino Gelsomino Tommaso il tuo corso è adatto a chi come me vuole vendere sia al negozio fisico online assolutamente ragazzi calcolate che il dropshipping è il primo step per vendere online perché quelle tecniche sono proprio essenziali ciao Vitale sono proprio essenziali per eh per chi inizia a vendere cioè perché per chi inizia a vendere il dropshipping è il primo step per vi insegna proprio le basi del scarsi del marketing di come fare ovviamente vi insegno ho tutto lezioni e lezioni ore e ore di eh facebook ads che sono fondamentali il targeting lookalike audience come dovete fare come dovete scalare pubblico simile per chi non sapesse cos'è lookalike audience corsa di poco magnifico finalmente qualcuno mi spiega bene tutto da lal alla z bravo Stefano grazie Davide bravi che mettete like su youtube bravissimi bravissimi conviene contattare un dropshipping agent all'inizio contattarlo è gratis però lui decide quanto è il minimum order quantity quindi cioè lo puoi contattare ma vi spiego anche come fare e poi vi passo il mio che in teoria cioè all'inizio io mi ricordo a me faceva fare anche sotto i 10 ordini al giorno però sicuramente è meglio se lo contattate quando ce n'avete di più perché comunque immaginatevi che lui vuole lavorare con più persone con le persone più qualificate nel senso che ordinano il più possibile da loro ci sono quei tre infami eduardo che hanno lasciato un mi piace eduardo è un mondo libero ognuno può mettere mi piace o non mi piace non c'è problema anzi meglio così semplicemente non sono persone in target non tutti possono essere in target quindi va benissimo riccardo come si fa a sapere se l'insersione va bene e facebook dove si trovano le cose che vanno bene te l'ho spiegato all'inizio del video essenzialmente tramite click through rate sicuramente poi ci sono altri parametri da prendere in considerazione però cioè a voce il problema che a voce si può spiegare fino a un certo punto io devo mostrarti step by step tramite il video e spiegarti con un video con delle immagini con un testo o qualcosa per farti capire cioè ci sono dei limiti a non spiegare così ti posso dire cose generiche ma se tu non vedi il video quello che ho fatto nel programma avanzato non perché voglio in del corso ma perché è così cioè nel video dove parlo specificatamente di quella cosa e proseguo il discorso ovviamente è tutto inutile cioè delle informazioni spezzate ok non c'hai un percorso il problema vero è che quei furboni dei due colleghi vendono corsi a 1 2k che poi si rivela una sola nell'attempato ciclo che ti vende nell'attempato ciclo che ti vende il corso per amazon che fa un corso super sommario apposta per poi dover acquistare per forza le sue consulenze e capisci qualcosa ergo dai 5.000 euro solo per capire qualche cavolata per non essere volgari non siamo volgari leo per non parlare dell'altro pirla che sta a londra che fa drop e si fa sponsorizzare dal famoso influencer canterino per poi fare un corso che non ti dà nemmeno le dico le basi per iniziare fra l'altro far fare il docente al suo compare che manco si capisce quando parla ne ho fatti di corsi e tanti soldi puttani in eccesso spero che con te posso riscoprire la soddisfazione di aver speso bene i miei soldi sembri una bella persona e quindi ti ho dato fiducia grande leo assolutamente il mio obiettivo è questo cioè ma ragazzi lo vedete mi potete chiedere qualsiasi domanda ma dove sta leggendo su facebook ragazzi comunque grande leo lo so ragazzi allora sta cosa dei corsi dei fregature io se sono passato per prima molto prima di voi in america ok tutto quello che succede in italia in america è già successo ho già visto tutto quanto ok il 90% sono tutte sole dei corsi perché è gente che lo fa solo per vendere i corsi perché i corsi hanno un più alto margine ok e essenzialmente non mi frega niente delle persone che acquistano i corsi ok vendono i corsi fanno i soldi e basta ora il problema qual è è che il corso come le consulenze come tutto quanto è un prodotto ok come un prodotto un paio di scarpe un prodotto che ne so un letto qualsiasi cosa ora se il prodotto fa schifo e non è di qualità la gente ne parla male e si sparge la voce e semplicemente il produttore o il venditore il produttore o il venditore cioè soprattutto in italia che il mercato è piccolo si sparge la voce e fa una brutta fine tra virgolette tuttavia cioè dato che comunque la gente ragazzi a memoria proprio corta nonostante tu lo confermo il corso è top grande tutor eh lo so che è top se no che lo faceva fa la gente si scorda ragazzi io lo dico se io adesso non è perché in verità non mi frega niente degli altri perché io guardo vado per la mia strada cerco di creare il miglior voglio creare il miglior prodotto e lo sto creando il miglior prodotto sul mercato italiano in lingua italiana per quanto riguarda dropshipping l'e-commerce e il private label e quindi l'e-commerce e è quello che voglio fare in modo da avere il prodotto migliore e con il passaparola quindi senza nemmeno bisogno di ads raggiungere le persone e in quel caso ovviamente creando il prodotto migliore io aiuto le persone e più ovviamente il mio business si ingrandisce ma è un win-to-win ok win-win comunque ragazzi sto arrivato a una certa ora sto proprio cotto comunque ragazzi io queste cose le ho già viste in America è tutto normale cioè 90% non te stanno però per esempio a me mi è servita come lezione perché adesso so dopo 5 secondi vedo subito se sei una persona affidabile o meno ma non solo dei corsi di qualsiasi cosa ma anche tu consigli di comprare pagine Instagram e Facebook già pieni di like? assolutamente no Filippo che ti servono? chi è che guarda like su Facebook e chi soprattutto non ti serve la pagina Instagram perché vuoi fare pubblicità senza le pagine Instagram chi ti consiglia questo perché è un pollo oppure uno che non sa le cose quindi vabbè lo sapete Stefano io ancora non ho visto il tuo video su come vendere online senza partita IVA potresti spiegare più bene una breve introduzione ragazzi non è un video su come vendere senza partita IVA è un video su come non pagare l'IVA con il dropshipping è diverso cioè allora teoricamente questo diciamo in ogni video aspetta vabbè rispondo dopo ragazzi comunque grande Leo allora teoricamente la partita IVA andrebbe pagata per tutte quelle attività che operano in maniera continuativa ok cosa significa questo significa tutto e niente perché è molto soggettiva come cosa se tu apri un sito Shopify in dropshipping e lo apri dopo un'ora lo chiudi cosa c'è di continuativo quindi sicuramente se apri un sito dropshipping e inizi a vendere puoi stare tranquillo in generale ora tutto quello che dico mi dissocio perché non sono un commerciante eccetera eccetera lo dico in ogni video io non ho competenze legali o cose del genere però ragazzi ma state tranquilli pensate a fare soldi prima tanto non è che siete controllati dalla mattina alla sera cioè se apri un sito che succede niente quindi comunque non è un video su come non è un video su come vendere senza partita è un video come non pagare l'iva con i dropshipping vendendo all'estero stai ci riprovo dove fai il cash out giornaliero di pepole stripe dove lo fai? sul conto corrente che vuol dire dove lo vuoi fai? Alessandro te devono entrare i soldi per cash flow perché non ti apri un transferwise? io ho transferwise personal e business è una bomba potete fare anche i bonifici su montana dropshipping formula direttamente su transferwise come si fa a fare dropshipping da Italia anche se i fornitori hanno un sito e se rispetto ai cinesi vendono il triplo come si fa? fare dropshipping in Italia hanno un sito e se rispetto ai cinesi vendono il triplo non ho capito questa domanda Filippo ma i formuli cioè che vuol dire se c'hanno un sito se c'hanno un sito c'hanno un sito te fai pubblicità li attiri tu al tuo sito adoro che fai commenti biricchini sarebbe bello se coloro che hanno già acquistato altri corsi possano dire che cosa ne pensano il tuo magari fare un po' su facebook grazie certo francesco comunque ragazzi non c'è problema cioè potete chiedere tranquillamente anche in chat potete fare domande io non c'ho niente da nascondere non avete capito qua non stiamo a fare i trucchetti giochetti truffe e cose del genere ok io sto creando il miglior corso e-commerce sulla faccia della terra in lingua italiana quindi cioè c'è poco da parlare e lo sto facendo adesso quindi è super nuovo super fresh sicuramente se voi avete domande ragazzi sono qui per rispondere quindi non c'è problema e soprattutto ragazzi non è che lo dico io ci sono le recensioni oltre vabbè e dici Stefano ma chi sei tu c'ho stanno 2000 video di risultati miei in corso di un anno e passa che mostro esattamente esattamente ho alcuni dei miei risultati ci sono i video dove aggiorno i dashboard faccio vedere i video e spiego soprattutto non è che faccio vedere metto uno screen uno screen preso così a caso e lo butto là sulla immagine e cose del genere oltre a fare quello quali sono le differenze dropshipping formula e master master lo sto ancora facendo quello è il il corso non lo dovete comprare dovete comprare formula per il dropshipping master sarebbe per la consulenza e il video e il corso avanzato ciao Stefano il tuo corso completo a montare una dropshipping formula da 333 sterline no euro perché sterline e comunque usa il codice lancio per avere un sconto a 130 euro che scade fra qualche giorno assolutamente fiducioso in te ma per coloro che esitano o vogliono assicurazioni no assolutamente francesco quindi oltre vi consiglio di andare a vedere chi sono chi è Stefano Montana Stefano Montana google youtube video recensioni andate su montanabissessonline.com recensioni sono i video dei miei clienti dei miei studenti proprio i video che parlano oltre che una caterba di conversazioni video no conversazioni screen e screenshot dei risultati che hanno avuto che hanno ottenuto c'è un ragazzo che ha fatto tipo 5000 euro a 17 anni manco 18enne un altro aveva fatto 150 ordini in un giorno eccetera eccetera stanno sul sito agli occhi di tutti ho visto tutto il tuo video della biografia grande francesco ti sei fatta una bella oretta di video comunque il video potete metterlo l'ho messo nel modo che potete aggiornare potete velocizzare il video quindi mettetelo 1.5x si può usare la carta n26 per vendere su shopify certo cioè non è che tu usi la carta per vendere tu usi la carta per ricevere vai corso acquistato grande kree kree troi porca paletta ecco mi stava a cascare tutto tutta l'ambaradano quindi ragazzi dovete stare tranquilli cioè poi non è che io sto qua a dire ah quello quell'altro a me non mi interessa io vado per la mia strada cerco di aiutare più persone possibile sia gratis sia a pagamento come programma e ognuno è felice così aspetta come devo fare per far comparire pulsante dropshipping center su express help me please giuliano vatti a vedere il video gratis nuovo tutorial dropshipping 2020 sul sì sul là ti spieghi esattamente come collegare di search e creare il dropshipping center guardate sto instagram ragazzi mi cascate con di instagram stefano ancora mi ha accettato il gruppo facebook ti accetto francesco tranquillo faccio accettare e ciò adesso vi ho accetto tutti domandina paracura ma il codice lancio esatto il lancio lancio scrivete lancio su codice promozionale e andate a ottenere 130 euro di sconto valido per i prossimi tre giorni o quattro vabbè fino al primo edoardo non lo fare succedono casi di sì edoardo forse non hai capito tanto è inutile che fai domande gratis per sempre se tu spendi 200 euro per il corso adesso stai a posto per sempre lo so che tu vuoi andare sopra ma tanto alla fine questa è una inizia un po' dalla vita ragazzi io ero il primo che non voleva comprare corsi poi le prime due settimane mi sono partito 2000 euro e poi il corso l'ho comprato e mi ha cambiato la vita quindi non è non so bugese è la realtà quante ore dura il corso calcola dura almeno 10 ore Bruno Emanuele perché non mi interessa ho visto a velocità normale sia perché voglio conoscerti sia perché mi sono ritrovato parecchio quindi l'ho visto volentieri grande compra e abbiamo tante Edoardo ce l'abbiamo capito Edoardo ma poi mi dici quanti anni c'hai Edoardo Edoardo se compro il corso te lo dico che è stato il mio primo corso tremendo Edoardo già ha la manina tirata ma che vuoi sapere Edoardo ma quanti anni c'hai giusto per sapere come ti chiami su Facebook Stefano Montana però ragazzi ah un'altra cosa ragazzi ci sono molte persone giustamente tra virgolette se ne approfittano perché ho fatto i corsi gratis rispondo gratis su YouTube e tra virgolette si prendono cioè io lo capisco ragazzi che volete essere aiutati gratis però obiettivamente calcolate che mi scrivono 20-30 persone al giorno cioè ogni settimana ho tipo 300.000 views sul canale quindi immaginate quante persone mi scrivono al giorno e vogliono consigli gratis aiuti gratis eh ma un piccolo consiglio veloce io non è per cattiveria ma secondo voi io posso stare ho aziende ho il personal branding ho altri store ho 2000 cose da fare ma non è manco per cattiveria perché voglio essere pagato ma obiettivamente cioè ma devo dare valore al mio tempo o no perché il valore comunque è cioè veramente vale molto più dei soldi ma non è per cattiveria non posso rispondere a tutti gratis ok per quello che ho creato montano dropship in formula col supporto quindi ragazzi io lo so che voi volete essere aiutati stare all'inizio e tutto quanto però non è possibile se se comprate il corso avete diritto al supporto quindi tutti coloro che mi scrivono vogliono informazioni così non è possibile ragazzi comunque potete fare i complimenti tranquillamente anzi altri mi fanno grande Stefano ti apprezzo ti apprezzo e poi mi fanno una domandina quindi mi attirano con i complimenti dico grazie grazie mi fanno una domandina e lancio Filippo si devi inserire il codice promozionale lancio bisogna pagare fai bene ragazzi ma in verità non è una questione di pagare cioè è una questione cioè proprio di business ok perché alla fine è come se tu fai nel negozio di scarpe che mi dai le scarpe gratis cioè questo io è il prodotto che il prodotto sono informazioni quindi è la stessa cosa va bene questo è il discorso cioè chi è andato nel negozio di scarpe va a andare al supermercato eh ma io devo mangiare eh andate al supermercato e fatevi il cibo gratis vediamo che vi dicono Stefano ha pensato a un gruppo telegramma con quelli che hanno acquistato il corso eh Fede è un gruppo facebook è una bomba non ti piace cioè sei entrato si ciao Walter alla fine in Brasile e in Argentini sono stato a dicembre oggi devo fare un ordine dalla Cina non ho capito Walter grande comunque prossimo viaggio ragazzi in Brasile vado a San Paolo per tre mesetti però voglio farmi pure il carnevale cioè appena vincisce tutto sto macello Stefano devi indossare una maglietta con la scritta codice scontolancio ragazzi ma il codice scontolancio è solamente per chi mi segue adesso cioè infatti per esempio c'è un ragazzo che Luca che mi segue tutte le live e per sbaglio ha pagato 333 euro se voi per sbaglio pagate 333 euro come è successo a Luca mi avvisate e io vi rimborso 130 euro perché questo è un lancio che sto facendo per tutti coloro che mi seguono comunque mi mi seguono tutti i giorni la ricevuta è il bonifico dove la mando per email per messaggio va bene disse il vecchio esaggio ogni cosa ha il suo prezzo ebbene ragazzi ma una certa qua ormai sale 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 la born va bene va ok ragazzi ma facebook ragazzi mi sentite arriva il link con accesso via mail no puoi entrare direttamente dal tu quando hai comprato già puoi entrare diretto ah container da 20 ok salute grazie vabbè questo è tutta aria comunque sta venendo un profumino dopo aver acquistato il corso se uno vuole essere eseguito in coaching da te quanto costa eh Filippo ne parliamo perché io le corse faccio pagare un sacco cioè proprio del mio tempo personale le faccio pagare un sacco perché adesso sto proprio pieno sto seguendo un brand che vogliamo parlare vogliamo portare tipo veramente a fatturare milioni stile balenziaga un brand di scarpe italiano made in italy è un cliente che ci ha contattato e quindi adesso stiamo veramente poi c'ho poi c'ho altri cinque dei brand che sto seguendo eh perché comunque ragazzi cioè questo periodo che è tutto esploso se voi andate a vedere google trends dropshipping e commerce in italia questo periodo si sono svegliati tutti quanti magicamente io vabbè però ci sta cioè comunque tutti stanno a casa cercano modi per guadagnare ci sta però immaginate quante persone adesso ma non solo persone comuni che si stanno approcciando al dropshipping in generale quante aziende e quanti brand mi stanno contattando in tutto il mondo sto vendendo devi vendere in tutto il mondo bravo quindi Filippo per la coach scrivimi ne parliamo però sicuramente dopo aver acquistato il corso assolutamente ragazzi sono stanco ormai c'è una certa età non so ancora all'altezza di partecipare che vuol dire Lorenzo mindset veramente negativo che cioè non è da business ok cioè tu stai iniziando business che vuol dire l'altezza chiunque ha l'altezza io cioè quindi io ragazzi sono proprio esempio vivente che cioè chiunque può farcela cioè non è perché sono laureato anzi anzi sono laureato secondo me è una cosa negativa perché ho perso tipo cinque anni e passa studiando facendo niente qualcosa che non mi interessava e poi se iniziavo il dropshipping cinque anni prima a quest'ora non lo so dove stavo cioè vabbè anzi cinque anni prima manco esisteva il dropshipping però vabbè avete capito il senso tre mesi fa non sapevo neanche cosa voleva dire un'az ah ragazzi qua instagram mi sta lasciando vi mando un caro saluto un abbraccio e ci vediamo domani per la live ok montana dropshipping formula su montanabusinessonline.com codice sconto lancio ragazzi per tutti voi che mi seguite risparmiate 130 euro va bene belli cari vuoi di vista mi saluto in questo periodo ha favorito tantissimo il commercial line ragazzi il dropshipping non è mai funzionato così tanto come in questo periodo perché li dite ragazzi da esatto prima di approcciarsi a un business bisogna cambiare mindset assolutamente ciao Stefano grazie e di che Giuliano figurati ragazzi vi lascio che sto veramente c'ho fame qua c'è il notorino vediamo se ha finito di cucinare finalmente dai mi raccomando acquisto il corso adesso Stefano grande Simone codice sconto lancio qua condividiamo ok ragazzuoli i gladiatori buona serata anche a voi ragazzi tutor ciao ciao a tutti ragazzi un abbraccio un saluto e un bacione